Pregate per la pace di Gerusalemme, ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Quelli che ti amano vivano tranquilli. Quelli che amano il Signore, dice la parola del Signore, vivano tranquilli. Ma c'è guerra come vivere tranquilli. Eppure il Signore ci dice, quelli che ti amano vivano tranquilli. Perché quelli che non amano Dio non vivono tranquilli, ma vivono la guerra, dice la parola del Signore. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto, andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta. Tutta la terra è una città ben compatta agli occhi del Signore, ma anche agli occhi di colui che conosce il Signore. In quanto chi conosce il Signore rivolge uno sguardo diverso sulla città di Gerusalemme, su tutta la terra, su tutte le cose che accadono, quelli che non conoscono il Signore, rivolgono uno sguardo lontano dal Signore. E poi vedremo. Dice la parola del Signore. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele. Secondo la legge imposta al popolo di Dio, a coloro che conoscono Dio, si sale dove salgono le tribù, le tribù del Signore. Si sale con lo sguardo, con il pensiero, con il mondo di vedere. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Dove sale lo sguardo del popolo che conosce Dio, si lascia sul trono per il giudizio il Signore. Per tutto ciò che accade oggi, lo sguardo del popolo di Dio lascia il Signore sul trono per il giudizio del nemico di colui che oggi fa la guerra, oppure fa male al suo simile. Dice la parola del Signore. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò la pace sia dentro di te, di chiunque. Colui che conosce il Signore dirà, uscirà dalle sue bocca queste parole. La pace sia dentro di te, di chiunque e sul trono del giudizio ci sia il Signore. La bocca di coloro che conoscono il Signore dicono queste parole. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Anche ai nemici, anche a colui che fa oggi la guerra. Sul trono del giudizio sta Dio, ma il popolo di Dio dirà, per amore della casa del Signore, io cercherò il tuo bene. Dice la parola del Signore, rivolta ai nemici. Oggi, dice il Signore in Giove, tutto il capitolo 18. Quando porrete fine alle parole, riflettete e poi parleremo. Attenzione alle parole che noi diciamo oggi. Perché siamo considerati come bestie e perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri. Chi ci considera bestie oggi e chi ci considera oggi impuri, se non il nostro nemico. O tu che nel tuo cruccio laceri te stesso. Dovrà la terra per causa tua essere abbandonata e la roccia essere rimossa dal suo luogo? O tu che nel tuo cruccio laceri te stesso. Chiunque fa la guerra, chiunque si trova nel cruccio, lacera se stesso. Dice la parola del Signore. Mentre il popolo del Signore parla di pace, prega e desidera pace a chiunque. Quindi sono due popoli. Il popolo di Dio, che fa uscire dalle bocca solo parole di preghiera, di pace, di auguri per tutti, guardano tutti con lo stesso occhio. Mentre per coloro che sono nemici del uomo, l'unico sul trono si trova Dio, che dice questo oggi. Se la luce dell'empio si spegne e la fiamma del suo fuoco non brilla, dice la parola del Signore, del Signore che sta sul trono del giudizio dell'empio. La luce si oscura nella sua tenda e la lampada che li sta sopra si spegne, dice la parola del Signore che giudica l'empio in questo modo. I passi che faceva nella sua forza si raccorciano, i suoi disegni lo conducono a rovina, i disegni malvagi. Poiché i suoi piedi lo tragono nel tranello, va camminando sulle reti, dice la parola del Signore rivolta a l'empio. Il laccio lo afferra per il tallone, la trappola lo ghermisce. Sta nascosta in terra per lui un'insidia sul sentiero, lo aspetta un agguato. Chi? L'empio, dice la parola del Signore. Che cos'altro succede a esempio, a colui che fa uscire dalla bocca parole malvagie. Paure lo atteriscono tutto intorno, lo inseguono, li stanno alla calcania. La sua forza viene meno dalla fame. La calamità li sta pronta al fianco. La sua forza viene meno dalla fame. Rivolta a colui che per la sua fame prende, prende dall'altro, prende dall'altro per arricchirsi se stesso. Li divora a pezzo a pezzo la pelle, li divora le membra il primo genito della morte. Li divora le membra il primo genito della morte. Quando facciamo male facciamo nascere figli della morte, dice la parola del Signore. Egli è strappato dalla sua tenda che credeva sicura. E' fatto scendere verso il re degli spaventi. Quindi lo spavento prende colui che è malvagio. Nella sua tenda abita chi non è dei suoi, la sua casa è cosparsa di solfo. In basso si inaridiscono le sue radici, in alto sono tagliati i suoi rami. Rimane in sospeso. La sua memoria scompare dal paese, più non si ode il suo nome per le campagne. E' scacciato dalla luce nelle tenebre e bandito dal mondo. E questo lo fa solo Dio che si trova sul trono del giudizio, degli empi della terra. E' scacciato dalla luce nelle tenebre e bandito dal mondo. Non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti né son superstite dove Eli soggiornava. La sorte degli empi. Quelli di occidente sono stupiti della sua sorte, quelli di oriente ne sono inorriditi. Certo, sono tali le dimore dei perversi. Attenzione alla perversità del nostro cuore, perché il giudizio di Dio è tutto nella sua parola. Tale è il luogo di chi non conosce Dio. Io chiudo con le parole che escono dalla bocca di coloro che conoscono Dio. Che dice, mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, oh Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù, le tribù del Signore secondo la legge imposta a Israele secondo la legge di Dio. Per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue, mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici io dirò la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Di chiunque è questa l'immagine di colui che conosce il Signore. A Dio le lodi e la gloria. Amen.